Con il diffondersi della digitalizzazione i software giocano già oggi un ruolo molto importante all'interno del sistema sanitario. Possiamo facilmente immaginare dispositivi medici software in ogni area della medicina. Software sotto forma di programmi per pc, web application o app per dispositivi mobili devono rispettare requisiti regolatori molto stringenti in base al loro intended purpose. Il corso Medical Device Software in Europa vi aiuterà a comprendere questi requisiti, a qualificare e classificare dispositivi medici software in accordo alle linee guida applicabili in Europa. Inoltre vi guiderà in profondità su aspetti cruciali come gli standard per la gestione del ciclo di vita dei software IEC 62304 e IEC 82304 parte 1, la gestione dei dati clinici per i dispositivi medici software, la gestione dei rischi di cyber security. L'obiettivo del corso sarà quello di aiutarvi a progettare e sviluppare dispositivi medici software sicuri ed efficaci e a capire che cosa includere all'interno della documentazione tecnica richiesta in Europa. Vi aspettiamo nelle aule di Tuff Italia Academy.